Ciao, sono Ilaria. Ho 37 anni ed abito in provincia di Padova. Mi chiamo Elsa. Sono Sara Perini. Ciao, mi chiamo Salvo Grasso. Ciao, mi chiamo Elisabetta e vivo a Milano e vorrei raccontarvi come sono diventata autrice di un romanzo all'età di 59 anni senza aver mai pubblicato nulla. E voglio dire che aprirsi anche alle esperienze negative è una grande conquista e ci permette di evolvere anche a livello spirituale, quindi io ringrazio la vita veramente anche per questa brutta esperienza. Grazie.